La città della fortuna come Smart City all'avanguardia, Fano diventa una città sempre più intelligente grazie agli strumenti tecnologici che semplificano la vita dei cittadini, come MyCicero ed EasyPark, due app per smartphone utili per il pagamento della sosta. Dai primi di febbraio sono presenti a fianco dei parchimetri dei totemi informativi che promuovono l'utilizzo di queste applicazioni con l'obiettivo, come ribadiscono ASET e l'amministrazione comunale fanese, di sensibilizzare il pagamento della sosta negli stalli blu tramite smartphone. I benefici sono molteplici, ha commentato il presidente di ASET Paolo Reginelli, e vanno dalla maggior convenienza per il cittadino ad una maggior sicurezza ed igiene, in quanto non si ha nessun genere di contatto né con tastiere né con denaro monete, sottraendo così gli utenti al rischio di contrarre il Covid. A cosa servono queste app? Servono facilitarci la vita, semplicemente, perché intanto non abbiamo bisogno degli spicci, delle monete, abbiamo la certezza di pagare esattamente quello dello spazio che utilizziamo, il tempo che utilizziamo, perché connettendosi con un cellulare, cosa che ormai ognuno di noi ha, si riesce a impostare sia l'ora d'arrivo che l'ora di partenza. E può essere anche integrata, ad esempio, nel caso in cui ci si soffermi un po' di più per un appuntamento o altro, semplicemente dal telefonino si può allungare il periodo di parcheggio. Come si può ridurre se, ad esempio, abbiamo un appuntamento che riusciamo a sbrigare prima del previsto? Attivo dal 2019, questo servizio digitale ha visto nel corso di quest'anno una crescita costante dei fruitori, anche grazie alla maggiore alfabetizzazione digitale portata dalla pandemia. Nel secondo semestre del 2019, le transazioni emesse dalle app My Cicero e Disy Park sono passate da 5.700 alle oltre 16.000 operazioni nel 2020. Hanno una dimensione, una un po' più locale, locale, diciamo così, nazionale, perché My Cicero si è sviluppata specialmente nel centro Italia e possiamo trovare anche quando si va in altre città del centro Italia. Mentre invece Easy Park è un'app che ha un'utilità internazionale perché possiamo trovare la stessa modalità anche in altre nazioni addirittura. Riteniamo che sia estremamente agile anche per i giovani soprattutto, ma anche per chi lavora, per chi non ha tempo da perdere e ha bisogno di un servizio efficiente e veloce. Si possa intavolare un rapporto più sano con gli utenti dove gli utenti finalmente pagano solo ed esclusivamente lo spazio e il tempo che utilizzano.